La squadra. Dopo Gesena ci vediamo anche quest'anno. Sì, io ci ho sempre creduto, non mollo mai. L'incrediente segreto di questa squadra? L'incrediente? Che ci sono degli uomini che mi hanno seguito, uomini veri che mi hanno seguito. Possiamo dire la forza anche di un gruppo di chi ha giovane uomo. Io non abbandono mai nessuno, è faticoso, ma solo così puoi arrivare in fondo a un traguardo importante. Questi pilonf, secondo me, qual è stata la cosa che dice, diciamo, di questa storia? Che ci abbiamo creduto, l'abbiamo voluto, l'abbiamo desiderato e non l'abbiamo mai mollato. L'ho detto alla mia famiglia. L'ho detto alla mia famiglia.